Ci siamo, ultimi 90 minuti di passione nel campionato di promozione. Nessuna compagine erpina in corsa per un posto play-off, non succedeva da tanti anni. Nella passata stagione Belizia e Solofra ci avevano accompagnato in un rush finale avvincente. Quest'anno soltanto la bagarre play-out tiene banco, con la savignanese di mister della Marra che va a giocarsi tutto a Montesarchio. Iufitani solo con la vittoria potrebbero evitare l'incrucio con la Bisa Cese. In caso di pareggio sconfitta, la post-season per salvare la categoria è d'obbligo. Gesualdo non deve perdere in casa della retrocessa a Belidum se vuole salvarsi. Rispetto alla savignanese, il compito è più agevole per i ragazzi di mister Napolitano. L'apice chiude da imbattuto al momento il suo campionato in casa della città di Avellino, altro team retrocesso in prima categoria. Poi il Belizia invece va a benevento in casa della forza e coraggio per gli ultimi 90 minuti di una stagione anonima per i verdi fucsi avellinesi di mister Dimieri. Al bello fatto, Baiano Castelpoti è un match che interessa da vicino soltanto i sanniti di Cagnale, che devono blindare la trezza piazza utile per giocarsi l'ipotetica finale contro il Cimitile, mentre la bisaccese da Tarullo, dopo aver perso il recupero a Scampitella contro il Cimitile, ha in trasferta a Ponte oggi e poi per il play-out su Alvezza. Granata comunque hanno risputato una seconda parte di stagione esaltante, che però non ha evitato l'amoro epilogo finale.